Ciao a tutti e a tutta, sono a Praia, sono a Plasso e mi sono Stefano. Sono a Praia, anche se ho vinto da tutta l'altra parte della vita e viro un po' il mondo, insomma al mondo dell'Italia. Però sono sempre tornato qui perché siamo in un paese, nel posto che ho parlato di un pinto al mondo, e quindi quando vengo a Munt, vengo a fare un vivere. E io ho la persona qui che parla del Patois, parlo del Patois. Perché l'ho imparato da me e l'ho mai perduto. Sono a Praia, credo che la più importante della Praia, credo che la gente non sapeva di costruire la purgia della Praia, la purgia hanno tutti i loro nomi, loro si sono a Praia, le drette, le manzate e via di seguito, però credo che la purgia la più importante della Praia è a Praia, anche se ho vinto, naturalmente è la viola, che si chiamano la viola per qualcosa. Ora non vengo a vedere quel posto, un giro per il paese, che ha un po' di storia, e mi volevo raccontare la storia in Patois, diciamo. Allora, ora non sono venguti in un canto di parlare, che ha più di storia, secondo me, perché se non sono venguti a Gleiso Valdese, in italiano si dice il Tempio, ma in Patois non si dice la Gleiso, quindi si dice la Gleiso. E se è la Gleiso Valdese, più voglio che l'hanno in tutta la valida, perché l'ha sull'otto che ha un paese di trutto quando gli italiani la persecuzione nel 1686, e quindi l'ha stata la prima, dove gli italiani sono tornati dal Grosso di Patois, e l'ha fatto la Gleiso, il famoso ministro Enrico Arnaud, Henri Arnaud in francese, e l'ha fatto la Gleiso ici, il 23 d'auta 1689. E l'ambito è che il mio paese, dove gli ha marco in francese, il Tempio profano per le idol, durante l'exil, il fu il premier, e l'ha votato, eccetera, il 26 d'auta 1689. No, 99. No, 89. Si, in francese. Il francese ha la data che non capisco, perché non è in 89. Comunque, il mio paese, dove gli ha marco, e il mio paese, che devono avere un po' di discussione, perché, appunto, perché la Gleiso si salva, perché l'hanno trasformato in un Gleiso cattolico, e quindi gli abbiamo buttato in tutta la sua statua, di santo, e che cosa e chi. Quelli i Valdeschi, quando ci sono tornati, l'hanno fatti a fuori, l'hanno fatti a via. Difatti l'ha marco, profanato dagli idoli, e, diciamo, con francese, l'ha pubblicato ecumenico, e quindi provoca un po' di discussione. E si, la Pero de Fundación, diciamo, abitavano la data sulla Pera, e dove, con l'originale, 1556, l'ha scritta, è abbastanza orgera, ma basta da svegliare. E si, invece, l'hanno fatto accanto a che l'hanno fanno la Gleiso nel 1555, periodo napoleonico, e, difatti, in aere vaga, ma neoclassico, perché l'hanno fanno la Gleiso nel 1555. E l'hanno fatto fino a che l'hanno fanno la Gleiso nuovo negli anni in canto, di Zuma. Anche si fa un papilla Gleiso, perché l'hanno fanno la Gleiso nuovo e si è al museo della Praia, della Val Germanasca. E, quindi, da spaventare, come l'hanno fanno l'hanno fanno, però l'hanno fanno a forma di museo. Ma, sì, c'è un'altra storia che vi voglio raccontare. Cioè, se c'è qua, dove c'è chi? E si, tra la Gleiso e la Gleiso erano, l'hanno fanno la quarta, la galleria che avevano nel paese, perché avevano due mesi, le stazioni per tre mesi. Infatti, l'hanno fanno e poi, visto che ero l'hanno fanno la Gleiso, si chiamava il Paradiso. E lo smiglio che avevo, si, gli testa da gente che gli rubavano di una vela la Gialina, avessi sentito dire. E quindi, quando gli spavano il Gialino da Calcaire, in questo paese, tutti hanno finito la Gialina e hanno il Paradiso. in questo senso che è morto, ma con questo senso che è stato portato anche qui, che si chiamava il Paradiso. Qui ci sono un tempo che si chiamava la Graviere, un prezzo più specifico che si chiamava la Graviere da Musi Buongiorno. Allora, se vi vedete che la virgola si chiamava che ci sono tutta la metà di condominio, tutta la virgola che naturalmente non erano paesi, ci sono tutte e ci si chiamava la Graviere perché non si chiamava la Laigo e si chiamava la Pia. Il Piamonte si chiamava il Riu, l'opposto si chiamava il Riu perché si chiamava la Val d'Aiga appunto del Riu. In questo caso, in questo caso avevano un paese molto piccolo e avevano un paese da Laigo che si chiamavano dal Ciappello d'Anvio. Poi, quando gli spavano i condominio sono stati e i condominio si chiamavano i miei romani quindi si chiamavano non si chiamavano più e poi in questo caso avevano pochi in Pia che si chiamavano salvare un momento di entusiasmo per l'edilizia e in questo caso avevano la Graviere di M. Buongiorno perché si chiamavano che per fare qualunque cosa in agricoltura non si chiamavano la Pia e avevano un ministro che si chiamavano di M. Buongiorno che si chiamavano la Pia e quindi avevano un ministro che si chiamavano per fare la Pia o per portare la Pia la Pia e si chiamavano la Pia perché si chiamavano i miei romani i miei romani erano i miei romani erano la Pia e costumano sotto la Pia erano con la Pia o leggermente e qui è un edilizio moderno ed condominio che hanno la Pia e si chiamavano sull'ipra che erano a Pia per lì l'anno che sono italiane perché se no vogliono fuori da fuori fuori dall'altra e qui venivano l'aeroplano e dall'altra parte l'aeroplano fatti da l'aeroplano qui ci sono un po' di pralli che si chiamavano un po' di pralli e un po' d'albre e qui arrivava il teleferico che portava la Pia d'uso da la miniera di a 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 i camion ne avevano praticamente niente, e a loro portavano la terra d'uso o la teleferica. E loro arrivavano proprio qui. E loro erano in un grosso maison della società Talc Grafite, e se la verona non erano niente, non erano proprio. E loro asomavano la stazione, perché loro arrivavano la teleferica e i camion poi partendoci e andavano a valle a portare la terra d'uso al malanaggio. Susanna Montaici, prima la via che va al Pradaval, Prada Montaici, fin a Vio appunto, avvengono i basamenti di Piolù a Mese degli Albre, e qui era proprio la seggio viva, quindi avvengono la galleria a Sera ormai. E qui alla Simmo? La sve Agape. La sve la tour d'Agape, perché qui a Mese degli Albre avvengono 40 e 50 anni dalla Grezzo Valdese, con il centro ecumenico e il centro giovanile. E io ho costruito, e io ho fatto coiglie e il mio teleferico, io ero il teleferico che portavamo molto la cosa per costruire. E abbiamo perso una parte, giuva da loro, hanno partecipato alla costruzione, e siamo perso una giuva che venivano da tutto il mondo, ma anche da fuori dall'Italia. Inizio ci sono tanti samenteri, con un posto che si chiamano Basacchi, e qui vengono le tre ciocchie da Pral, che è il vecchio dell'Agape, che è stato fatto un po' a calma, ma comunque è stato uscente almeno in uscente dell'Italia, in un paio com'arco. E qui c'è l'Agape, che è l'Agape, che però ha un senso ciocca, perché l'Agape è stato uscita, perché l'Agape è stato uscita, e l'ho scelta. Comunque, e lì tutto dentro è l'Agape, che è l'Agape, che ha l'Agape e l'Uro. è l'Agape e l'Agape. E qui in primo piano, all'entrata al paio, l'Agape è un'ottagonia che si chiama l'Ottagono, perché è la forma ottagonale, e che, diciamo, non c'è gente che sappia, ma comunque l'Agape è un'ottagonia del fascismo, quando era il fascismo, e qui aveva fatto l'ottagonia del fascismo proprio all'entrata al paio, per far vedere che l'Agape era un fascista, credo. Allora, spero che abbia sentito la storia che sia molto bene, mi vuodio ciao, e oggi abbiamo un don che non è venuta un po' triffa. e ora, il mio gioco è un don che è venuto un'ottagonia e ora vediamo